La confcommercio fa i conti con un possibile disimpegno di Ryanair d'Alguero, danno da centinaia di milioni. Regione chiamata a evitare il disastro, giovedì l'assessore Deiana sarà d'Alguero. Il sindaco Bruno chiede interventi rapidi. Ieri è saltata la riunione della terza commissione che avrebbe dovuto parlare del regolamento sul suolo pubblico. La maggioranza non si presenta, sempre più e feri corti con l'Udc. Il Golf Club Alghero è stato protagonista Is Arenas dove si è svolto il secondo quadrangolare del 2015. Ottima la prestazione sia di squadra anche dei singoli. Nel TG di oggi spazio anche a basket e powerlifting. Ben ritrovati con il telegiornale di Alghero su Catalan TV. Anche oggi in primo piano la questione Ryanair e i collegamenti low cost che rischiano di essere tagliati nell'aeroporto di Alghero ma anche in quello di Cagliari. Giovedì, come detto, ci sarà un nuovo incontro a Sant'Anna al quale parteciperà anche l'assessore regionale dei trasporti Massimo Deiana. Intanto si fanno i calcoli su un possibile disimpegno della compagnia irlandese che avrebbe ripercussioni inevitabilmente negative. Bastano alcuni dati relativi al 2014 riguardanti uno studio effettuato da Confcommercio per avere un'idea più chiara se davvero ce ne fosse bisogno dei gravi danni che sono dietro l'angolo per l'industria vacanziera, ma non solo. Il mercato di turisti low cost vale tra i 600 e i 700 milioni di euro per tutta l'isola, 200 soltanto per il sassarese. Se poi si considera che questi dati sono relativi al 2014 e che quest'anno invece si è registrato un incremento di arrivi e presenze, il conto è presto fatto. L'impatto di un eventuale disimpegno di Ryanair dalla Sardegna sarebbe devastante, soprattutto per quella fetta di industria vacanziera come il bed and breakfast, cresciuta notevolmente negli ultimi anni, proprio grazie ai vogli a basso costo. Le associazioni di categoria sono pronte a fare la loro parte, ma tendono di capire quali sono le intenzioni dell'assessorato regionale dei trasporti, soprattutto nel breve termine. I margini per far tornare la compagnia indietro sui suoi passi ci sono. Salvare tutti i 14 vogli a rischio, nello scalo algherese sembra impresa ardua, così come sembrano esserci margini di intervento legittimi negli orientamenti europei vigenti in tema di incentivo pubblico e low cost. Bisogna dimostrare i ricavi incrementali per lo scalo, non per la società sarda o per il territorio, così dice la norma europea, spiega il sindaco Mario Bruno, secondo il quale si può intervenire anche senza attendere il pronunciamento della commissione sulla legge 10. La questione è in mano alla regione, ma non c'è più tempo da perdere, anche perché forse se n'è perso troppo sinora. È destinata invece a creare un nuovo polverone politico l'assenza di ieri della maggioranza alla riunione della terza commissione, convocata da Monica Purina, per parlare del regolamento sul suolo pubblico. La mancata partecipazione dei quattro commissari di maggioranza ha comportato la mancanza del numero legale, quindi reso deserta la seduta, scatenando l'ira della stessa Presidente e dei consiglieri di opposizione presenti. Una mossa dalla chiara valenza politica se si considera che la Presidente della commissione fa parte dell'Udc, partito che come noto è passato all'opposizione. Reste il fatto però che quanto accaduto ieri ha creato non poco di disappunto tra i rappresentanti delle associazioni di categoria, nello specifico Massimo Cadedu per la Conf Commercio e Mario Piras della Conf Artigianato, che si erano recati a Sant'Anna per esporre i loro rilievi sul regolamento che molti tra gli esercenti chiedono venga modificato in vista della prossima stagione. Ora ascoltiamo proprio le parole della Presidente della Commissione, Monica Purina, dopo la seduta della Commissione andata di fatto a deserto e del consigliere comunale del PD, Enrico Dalla. E' un fatto gravissimo, come un fatto gravissimo l'assenza di entrambi gli assessori. Un'altra cosa, voglio dire che in qualità di Presidente sono ramanicata ancora una volta perché? Perché non è la prima volta che le commissioni da me convocate, rappresento un partito politico ben specifico e inserito nell'ambito della città, un partito politico che ha comunque sempre manifestato l'intenzione di stare vicini alle associazioni di categoria, che ha sempre dato voce alle associazioni di categoria, che si è sempre impegnato per garantire gli interessi di tutti gli attori che sono coinvolti nel processo economico della città. Siamo alla fine del 2015, in tempo utile per modificare il regolamento sui suoi pubblici, la maggioranza in un momento importantissimo in cui la Presidente Pulina molto saggiamente ha convocato le associazioni di categoria, la terza commissione che è deputata a fare le modifiche dei regolamenti, a istruire le modifiche dei regolamenti, la maggioranza ha ben pensato di disertare questo incontro, di far mancare il numero legale e di non consentire che questo iter possa essere portato avanti. Siamo molto preoccupati perché mentre la politica fa questi teatrini che ci risparmieremo volentieri, mentre la maggioranza fa i calcoli sui numeri e le presenze sia nelle commissioni ma soprattutto in Consiglio Comunale, ci sono operatori che in questo momento non sanno quale sarà il loro futuro, operatori ovviamente del settore dei pubblici esercizi che hanno vissuto un anno drammatico e in piena angoscia e che alla luce di quello che sta succedendo non vedono degli orizzonti accettabili. Ora facciamo una prima pausa per la pubblicità, tra poco. Ben ritrovati in studio, come detto allora, disappunto è stato espresso dai rappresentanti di categoria per la riunione della commissione saltata che ora potrebbe essere riconvocata tra una settimana. Nel merito ascoltiamo proprio le parole di Massimo Cadedu dalla Confcommercio. Noi siamo venuti qui in commissione dopo che abbiamo chiesto alla commissione di essere sentiti. Stamattina noi siamo stati incontrati, io e il Presidente Piras, dopo richiesta dell'amministrazione che ci chiede un incontro, viceversa quindi, dall'assessore Tankis e dal sindaco Bruno. Molto semplicemente. Quello che ho qui è il documento... In che data è stata richiesta? L'incontro c'è stato richiesto venerdì forse. Questo venerdì scorso? Sì, tre o quattro giorni fa. La commissione è stata richiesta la settimana fa venerdì. No, è stato chiesto, finisco così, è stato chiesto tre giorni fa, dopo la convocazione vostra ovviamente. Però è molto chiaro che mentre noi abbiamo richiesto un incontro all'organo istituzionale che ci deve ascoltare in prima battuta, prima di entrare nel merito di un regolamento e della sua modifica, noi abbiamo fatto il passaggio che devono fare le associazioni di categoria. Abbiamo chiesto un incontro alla commissione. Siamo stati convocati nel contempo dall'amministrazione, quindi in questo caso dall'assessore Tanchis che è l'assessore di riferimento e dal sindaco Bruno. Noi stamattina alle 9 eravamo lì, abbiamo finito alle 10, siamo in corso giunta a Camerale e siamo riusciti qui, perché giustamente c'è l'incontro con la commissione. Rileviamo che la commissione non è il numero legale. E per la maggioranza arriva la risposta dell'assessore Gavino Tanchis, che ha fra le proprie deleghe anche quella al De Manio. Con lui abbiamo parlato in particolare dell'incontro venuto ieri mattina con i rappresentanti di categoria, di cui ha parlato appunto, come avete sentito, Massimo Cadeggio. Assessore Tanchis, ieri c'è stato un incontro, ieri mattina con i rappresentanti delle associazioni di categoria per parlare del regolamento sul suolo pubblico. Che incontro è stato? È stato un incontro proficuo, abbiamo recepito quelle che sono le istanze pervenute dalle associazioni di categoria, in parte già immediatamente recepite, perché sostanzialmente chiedevano di velocizzare la tempistica e di supportare tecnicamente l'operatore nella richiesta del suolo pubblico. Abbiamo già creato nel sito istituzionale un apposito link dove si può procedere telematicamente online alla richiesta del suolo pubblico. Per quanto riguarda invece il supporto tecnico rappresento, se laddove me ne fosse bisogno, la piena disponibilità da parte del sottoscritto e dell'ufficio che rappresento nel supportare gli operatori nella richiesta del suolo pubblico. È nato un piccolo caso politico, ieri c'era in programma la commissione convocata da Monica Polina per parlare sempre del regolamento sul suolo pubblico. La maggioranza non si è presentata, la presidente della commissione ha detto che anche lei e l'altro assessore esposito eravate stati invitati a partecipare alla commissione, invece così non è avvenuto. Cosa rispondete? In primo luogo io ho invitato la consigliera Polina, presenziera al tavolo che c'era qualche ora prima, proprio per farle capire che noi come amministrazione teniamo a risolvere le problematiche e non crearle. Evidentemente lei se ritiene di essere all'opposizione, perché così ho capito gli ultimi comunicati stampa UDC, naturalmente dovrà lasciare la presidenza della commissione a disposizione di una forza o di un rappresentante della maggioranza, perché così lo prevede il regolamento. Dovranno essere disposte le nuove compagini in maggioranza, 5 alla maggioranza tra l'opposizione, così recita il regolamento e soprattutto chi è in maggioranza e chi ritiene di essere in maggioranza prima di convocare la commissione deve naturalmente concertarlo con la maggioranza di cui è espressione. Ora parliamo di microcredito, in una nota il portavoce di Forza Italia di Alghero, Andrea De Logo, scrive che nel quasi totale silenzio di regione comune sono stati riaperti ieri a mezzogiorno i termini per la presentazione delle domande di finanziamento del microcredito, ovvero l'ageolazione per giovani imprese che prevede un contributo fino a 25 mila euro a tasso zero, una boccata di ossigeno per le realtà in crisi, un'opportunità per tutte le start-up. Solo il 27 la Sfirsa ha comunicato la riapertura dei termini per all'inoltro delle domande. Il nostro sindaco, l'assessore allo sviluppo economico, troppo impegnati fra le beghe politiche, giochi ludici nelle borgate, prosegue il portavoce azzurro, si dimenticano del settore produttivo, utile solo per essere spremuto con nuove tasse. Forse dovremmo rimanere più connessi con la realtà, anzi che vivere per i social e magari prendere esempio da piccole realtà come Palau, che anche in anticipo sulla pubblicazione del bando ha organizzato un interessante incontro sul tema, ma sappiamo di chiedere troppo, anche se in realtà è solo chiedere il giusto stare dalla parte delle imprese, chiude De Logu. Ora facciamo un altro break pubblicitario, ci rivediamo tra poco. Diamo spazio adesso ad alcune segnalazioni che ci sono pervenute da vari cittadini. La prima riguarda via Grazia dell'Eda, in particolare il tratto compreso tra i numeri civici 9 e 17, qui viene segnalato che due pali della luce non sono funzionanti e questo fa sì che la parte interessata della via resti completamente al buio. La signora che ci ha segnalato il disguido ha anche fatto sapere di essersi già rivolta alle istituzioni, ma finora nessun intervento è stato fatto. L'altra segnalazione riguarda invece la traversa A di via Carrabuffas, stiamo parlando della strada, il fatto che la via Vittorio Emanuele porta a punto fino a Carrabuffas e viceversa. Questo tratto già di per sé stretto e disastrato, viste le numerose buche presenti, è reso ancora più pericoloso dalla presenza di numerose erbacce nelle cunette e a bordi strada che rendano ancora più difficile il passaggio di due auto in contemporanea. Anche in questo caso è richiesto un intervento urgente e comune anche perché la zona è abitata da diversi nuclei familiari. Anche oggi apriamo una finestra sullo sport, iniziano dal basket, la dinamo di Coach Calvani si è imposta contro Capodorlando e ho conquistato così il derby delle isole della non aggiornata di Serie A con il punteggio di 77-52, ottima partita dei Bianco-Blu al Palafantozzi nella sfida contro i siciliani. Gli uomini di Coach Calvani si sono mostrati concreti e cinici fin dal primo possesso, tenendo i padroni di casa 52 punti con una grande difesa. In attacco Sassari può contare su quattro uomini in doppia cifra, spicca Marquez Haynes con i suoi 18 punti, 17 invece i punti messi a segno da Logan e Ienga. Menzione per gli italiani che condotti dall'indomito Capitane Vecchia hanno dato l'apporto necessario alla squadra con Sacchetti, ormai tra i titolari, formenti. Giovedì al Palastra di Minni arriva il Maccabi per l'ottavo round di Eurolega. Sempre per il basket approfittiamo del turno di riposo dei ragazzi della Palacanestro Alghiero per parlare invece della squadra femminile militante in Serie C che ha perso a quarto, la Mercedes invece ha vinto tra le Muramiche contro il Sant'Ossola nel campionato di Serie B. Una vittoria e una sconfitta, questo è il bilancio del weekend cestistico algerese con la Mercedes che sabato pomeriggio ha iniziato al meglio il girone di ritorno del campionato di Serie B. Al di là del risultato, 69 a 55 per lì a Bianco Azzurre contro il Sant'Ossola, la squadra allenata da Manuela Monticelli ha convinto anche sul piano del gioco. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 15 a 13, la Mercedes ha preso il largo già nel secondo periodo raggiungendo anche il più 22 e poi controllando senza troppi problemi. I due punti conquistati sabato hanno permesso agli algeresi di agganciare proprio la formazione sassarese al secondo posto, sabato invece ci sarà la sfida alla capolista Nulvi. E' andata male invece la trasferta delle ragazze della Palacanestro Alghiero battute nettamente a quarto, 68 a 52 dal PGS Condor. Il match è iniziato male per la squadra allenata da Giuliano Cossedu che ha provato a ricucire il gap del primo quarto con una difesa aggressiva senza però riuscire ad agguantare le avversarie. Gli algeresi restano così a quota quattro punti ma domenica proveranno subito a rifarsi sul campo del Carloforte. Ascolteremo le interviste della Mercedes nel prossimo blocco dopo la pubblicità. Come detto allora per quest'ultima parte del nostro telegiornale iniziamo ascoltando le parole del Presidente della Mercedes Antonio Borruni e del coach Emanuela Monticelli. Ha sentita perché la partita persa l'andata sinceramente mi era rimasta un po' amara. Abbiamo lavorato per vincerla e devo dire che sono state brave a fare quello che abbiamo fatto in settimana. Un bel risultato e speriamo di continuare così. È stata una vittoria molto importante. Sono molto contento per le ragazze perché ci tenevamo a vincere questa partita. All'andata avevamo perso lì di due punti andando a giocare non con tutti gli effettivi a posto. Qui invece si siamo presentati con tutte le ragazze anche se con qualche acciacco che un po' ci ha condizionato. Bella vittoria. Perso di due lì. Abbiamo vinto di 14 qui al Palacorbìa quindi le agganciamo anche in classifica. Una vittoria che ci vuole e ci fa ben sperare per il proseguire il campionato. Questa sera alle 21 trasmetteremo proprio l'incontro di Serie B tra Mercedes Basket e Sant'Orsola nel Sassari giocata sabato al Palacorbìa. Il Golf Club Alghero, grande protagonista nei campi della Sardegna. Il club catalano ha infatti conquistato la vittoria del quadrangolare disputatosi a Isarenas. Ottima la prestazione dei golfisti algheresi. Sentiamolo. Si è concluso lo scorso fine settimana il secondo quadrangolare 2015 ospitato nel magnifico scenario del Golf Club Isarenas che ha visto partecipare quattro circoli della Sardegna. Il Golf Club Alghero, quello di Florinas, del Sinis e naturalmente il Golf Club Isarenas che ha ospitato tutte le tappe del torneo. La squadra algherese è composta da Guido Asuni, Antonio De Logu, Edoardo Fauro, Roberto Coino, Giancarlo Piras e Alessandro Isoni. Agguerriti e competitivi più che mai hanno collezionato 706 punti aggiudicandosi la vittoria davanti al Golf Club Sinis, al terzo posto Florinas e al quarto Isarenas. Entusiasmo e partecipazione ma soprattutto profonda passione per il golf hanno caratterizzato questo campionato che ha portato i giocatori del Golf Club Algherese con ottime prestazioni in tutte e tre le tappe e a trionfare anche nelle gare individuali. Si sono aggiudicati il primo classificato assoluto nella categoria uomini con HCP da 0 a 18, Guido Asuni, il primo classificato assoluto della categoria uomini con HCP da 18 a 36, Edoardo Fauro, mentre la prima classificata assoluta della categoria donne è stata Giulia Spanedda. Il secondo classificato assoluto della categoria uomini, Roberto Coino. L'attività proseguirà per tutto il mese di dicembre con gare organizzate dal Golf Club Alghero nel proprio campo di pitch and putt e con la classica sfida con il Golf Club di Fluinas dell'Immacolata. Lo scorso weekend a Vortigali si sono svolti i campionati italiani di scuote, stacco da terra della WDFPF tra i partecipanti e anche gli atleti della Sardegna Powerlifting presieduta dall'algherese Mirko Kalisai. L'abbiamo intervistato. Siamo in compagnia di Mirko Kalisai perché lo scorso weekend si sono svolti a Vortigali i campionati italiani di stacco e squat WDFPF. Mirko che rappresenta la Sardegna Powerlifting, com'è andata? Direi che è andata più che alla grande. Abbiamo raccolto due importantissimi titoli, due scudetti che penso che a Dalguero non so se qualche altra società abbia raggiunto un risultato simile. Se fossimo veramente i primi è davvero motivo d'orgoglio, anche perché dietro c'è un sacco di lavoro, non solo personale, ma di un sacco di altri istruttori che in giro per la Sardegna ci hanno dato una mano a ottenere questo grandissimo risultato. Ecco, hai detto in giro per la Sardegna, la Sardegna Powerlifting da chi è composta, quanti atleti e oltre a te c'è qualcun altro di Alghero? Sì, gli atleti algheresi al momento per questa gara erano quattro, oltre me cito Alessandro Pani che era un esordiente, Silvio Pinna e Valentina Spada. Però il nostro è un progetto molto più ampio diciamo. Il nostro scopo, che è lo scopo per il quale è nata la Sardegna Powerlifting, era far conoscere il powerlifting tutta la Sardegna. Con tanta pazienza, anno dopo anno, stiamo riuscendo ad allargarci sempre di più. Mi vengono in mente un gruppo folto di Barisardo e un altro gruppo importante di Cagliari che si è unito a noi. Si sono avvicinati per la prima volta a questo sport e hanno dato un contributo pazzesco. Saremmo ben felici se poi, in un futuro, anche già dopo il prossimo anno, andassero con le proprie gambe. Noi saremmo ben contenti. A noi interessa che la gente si avvicini a questo sport, poi si agareggiano con la Sardegna Powerlifting o con un'altra società. A noi va bene. L'importante è promuovere e far conoscere questa nuova disciplina. Per quanto ti riguarda, hai vinto tanti titoli. Quest'estate avevi quasi pensato di smettere, invece poi alla fine... Sì, in realtà è da settembre dello scorso anno che io ho pensato di smettere. Tanti impegni, specialmente familiari. Una bambina piccola a casa ti porta via un sacco di energie. Logicamente devi dedicare più tempo a lei che agli allenamenti. Quindi non vi nasconto che mi sto allenando davvero con il contagocce. Ho la fortuna di avere un'attrezzatura a casa. Quindi quando hai dieci minuti fai il tuo allenamento. Non mi sentivo prontissimo per questa gara, vi dico la verità. Però non so cosa sia scattata. Forse è proprio la presenza della famiglia. Mia moglie e mia figlia mi hanno dato una grossa carica. Insomma, è venuta fuori una buona prestazione. Super. 210 di stacco a 59 kg sarebbe anche il record del mondo che purtroppo non può essere ufficializzabile come record del mondo, ma mi tengo stretto che questo è il record italiano. E anche per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Grazie a tutti.